Ciao a tutti, benvenuti, io sono Flavia Capone di Letture Metropolitane e oggi intervistiamo Adrian Bravi che ha scritto questo bellissimo libro che si intitola L'idioma di Casilda Moreira, uscito per ex ormai editore da pochissimo, il 21 febbraio. Intanto ciao Adrian, grazie per essere venuto con noi. Questo è un libro molto particolare, la storia è quella di un etnolinguista, un giovanissimo etnolinguista, Annibale, che grazie al suo professore viene a conoscenza di questa lingua, poi ti chiederò di dire i nomi delle lingue perché sennò rischio di fare dei danni, di questa lingua che è rimasta parlata solamente da due persone, due persone che però hanno un piccolo problema di comunicazione fra di loro perché non si parlano più, hanno 70 e 75 anni e sono rimasti gli ultimi ad essere i detentori di questa lingua. Annibale allora decide di andare a capire come è possibile questo e cercare un pochino anche di far sopravvivere questa lingua. Succederanno poi una serie di cose che non vi dico, Annibale è nelle Marche e i due rimasti come possessori di questa lingua sono in Argentina. Quindi lui dovrà fare questo grandissimo viaggio fisico che poi sarà anche in realtà un viaggio spirituale, di formazione, di ampliamento dei propri orizzonti di lei per cercare un po' di capire come risolvere questo piccolo problema, questo piccolo enigma. Tu hai rilasciato un'intervista nel 2009 in cui hai detto la lingua non è solo un fatto sintattico ma un modo di vedere, di vedere il mondo, di confrontarsi con la realtà. Dopo hai scritto un saggio e hai scritto questo libro che rimane sulla questione della lingua. Come mai sei così interessato al mondo delle lingue? Allora, l'interesse appunto perché io vivo in una lingua che per me non ha un'infanzia e per me l'italiano io l'ho imparato anche da grande, lo scrivo anche da grande, l'ho imparato dopo i 25 anni e quindi per me mi rimane molto strano scrivere in una lingua che non è la mia lingua madre e quindi il tema della lingua mi stava molto a cuore. In quel saggio, la gelosia delle lingue di cui parlavi, lì mi sono occupato, ho cercato di percorrere alcune figure della lingua e parlando anche degli autori che per diverse vicissitudini hanno dovuto cambiare lingua e quindi Agota Cristo, Broschi, Nabokov, Beck, eccetera, eccetera. Per me quel libro era un po' un confronto sia con la loro esperienza e poi con la mia. Quindi il tema delle lingue mi sta molto a cuore e in questo libro invece, nell'Idioma di Casilda Moreira, ho cercato sempre di… sì, la lingua è un po' il protagonista di questa storia perché il viaggio che compie Annibale oltre a essere un viaggio geografico verso un luogo e soprattutto un viaggio verso una lingua, mi cercherà di… vuole recuperarla quel che si può. Sono gli ultimi, come dicevi, gli ultimi parlanti di questa lingua e quindi il viaggio è un viaggio quasi iniziatico verso lì. E il tema delle lingue, insomma, è sempre mio appassionato. In realtà ci sono anche molti contrasti in questo libro. C'è la scrittura, che è quella di Annibale, che è anche uno studioso, tra l'altro è uno che scrive molto, prende in continuazione appunti sul proprio quadernino. E l'oralità, che invece è, diciamo, la maggiore espressione di queste persone, di questo popolo che lui va ad incontrare. E così come anche un po' la contemplazione, che è tipica di queste persone, in particolare di uno dei due parlanti della lingua perduta, che è Bartolo, che passa il tempo seduto su questo cavallo oppure davanti alla propria casa a guardare, fondamentalmente a contemplare. E invece l'attivismo, un po' la frenesia di Annibale, che viene da un mondo completamente diverso e che si trova invece a dover rallentare molto i suoi ritmi. E devo dire che questi contrasti si sentono in maniera molto forte. Ora, io non sono mai stata in Argentina, però mi sono resa conto, leggendo il libro, che i luoghi parlano anche loro una lingua. Sì, sì, i luoghi parlano una lingua. E mi piaceva appunto questo contrasto tra Annibale, che va in questo posto, Kawalkan, che è in questo posto sperduto nella Pampa. E lui ha un approccio completamente diverso da quello che vive Bartolo, Casilda stessa, che vivono in un mondo ancora, se vogliamo dire, in un mondo mitopoietico. E quindi c'è questo grande contrasto, perché io credo che, in una parte del libro lo dico, che anche il vento, la pioggia, insomma la terra stessa, ha una sua espressione. E quindi che, siccome quella era la lingua che apparteneva al popolo originario di quella zona lì, ecco, mi piace pensare attraverso appunto la voce narrante del libro, che anche la terra stessa, il luogo stesso, abbia una lingua, che sia questa lingua che si chiama, allora, la lingua, il popolo, tanto per dire, il popolo si chiamano Igununakuna, oppure Tehuelches settentrionali. Igununakuna, la lingua che parlano è il Gununayahuk. E questa lingua si chiama così perché è un autoglottismo, cioè il modo in cui loro chiamavano proprio la propria lingua. Vengono conosciuti anche come Tehuelches, ma i Tehuelches li chiamavano un altro popolo che è arrivato dopo in quelle terre, che sono i Mapuches, e che li chiamavano in questo modo, li chiamavano Tehuelches. Non è acquisito quello, in realtà non è quello. Esatto, però se no loro si auto chiamavano, diciamo, i Gununakuna. Questo viaggio, come abbiamo detto di Annibale, in realtà è anche e soprattutto un cambiamento interiore. Lui cambia un po' il modo di vedere le cose, cambia il suo modo di rapportarsi con le persone. C'è una parte che mi ha molto colpito, diciamo, verso la prima parte, in cui Annibale deve arrivare in questo paesino lontanissimo. Non sa bene come arrivarci perché i collegamenti non sono diretti. E si fa accompagnare da questo personaggio, che in macchina, mentre sono in macchina insieme, dopo lungo silenzio, perché immaginate gli spazi enormi dell'Argentina, e dopo tanto silenzio, Annibale, per trovare un modo anche per parlare, gli dice, ma come ti senti a guidare nel deserto? Non ti stufi a guidare nel deserto? E lui lo guarda e gli dice, quale deserto? E mi ha molto colpito questa cosa, perché ci fa capire come uno stesso mondo, se non ci appartiene, se non lo possediamo, può essere qualcosa di completamente diverso. E credo che questo concetto nel libro sia molto importante. Sì, perché noi in genere, quando pensiamo da europei, quando pensiamo a queste distese sterminate, pensiamo che siano un posto uguale, che non finisce mai, con un unico orizzonte a guidarti lo sguardo. e invece per un oriundo quei posti lì nascondono tante storie. E questo è vero, perché, insomma, ma lo stesso quando si parlava della campagna del deserto, che era, insomma, che riguarda un po' lo sterminio di tutti questi popoli indigeni, si chiamava campagna del deserto, non è un caso, ma in realtà il deserto non era, perché lì abitavano un sacco di persone, abitavano intere popoli che erano nomadi, ma comunque abitavano tutti, erano posti pieni di storie. Solo che noi concepiamo il deserto sotto il nostro punto di vista, ecco. Invece per un oriundo quello non è un deserto. Anche i ritmi, appunto, che per loro sono assolutamente normali che magari a noi vorrebbero sembrare troppo lenti o come se si perdesse tempo. Annibale piano piano si abitua. All'inizio magari deve sempre uscire fuori, deve sempre andare a passeggiare, deve sempre fare qualcosa, e poi si rende conto, anche grazie ad un incontro, adesso arriviamo ad un altro tema del libro, che è l'amore, si rende conto che le prospettive sono molteplici e quindi non c'è solo il suo punto di vista da italiano, da europeo, vogliamo dire così, e c'è anche l'amore, l'amore che incontra Annibale e che un po' contribuisce a cambiare questa sua prospettiva, e anche invece un amore antico che coinvolge i due protagonisti, e poi, insomma, se leggete vedrete come, che è molto legato alla lingua. E quindi questo fatto che l'amore sia dipendente dal linguaggio e viceversa, cioè che non si possano riutilizzare delle parole se le si è già usate con una persona che non c'è più, anche è morta o che non si ama più. Aggiungo solo un appendice alla domanda precedente per dire che sempre mi è piaciuto pensare a quei luoghi così deserti come una specie di laboratorio linguistico, onirico, dove tu, come dire, il luogo stesso, cioè la geografia, non può essere del tutto scisa dall'immaginazione. Per quanto riguarda questa domanda, l'amore, ecco, lì, come giustamente osservavi, ci sono due storie di amore, tutte e due in qualche modo si incrociano con il tema della lingua. C'era un viaggiatore dell'Ottocento, Raul Lista, che aveva fatto un viaggio in questo, a trovare questa popolazione, i Tehuelces, o Gununakuna, e lui racconta che la loro lingua cambiava in continuazione. Per esempio, ed erano molto superstiziosi, arrivo al tema dell'amore con questo, ed erano molto superstiziosi, per esempio, fa questo esempio, loro chiamavano il grasso animale Ham, e allora siccome era morto uno degli integranti di una tribù, che era omonimo, allora nessun altro, poi il grasso animale ha cambiato nome, non volevano più chiamare il grasso animale come prima. Ecco, quindi era una lingua mutevole, che allora lì per lì mi è venuto a pensare che effettivamente anche l'amore poteva funzionare così, che una volta che l'amore ha una sua lingua, noi nell'intimità a volte, ci leghiamo all'altro attraverso un'intimità linguistica, mi verrebbe da dire, ci creiamo un nostro mondo linguistico, e lì ho pensato che sarebbe bello, insomma, che loro, che finita l'amore tra di loro, ecco, anche la lingua non potesse essere più usata, ed è quello che pensa soprattutto lei, Casilda, che non vuole più parlare il Gununa Yahuk con Bartolo, appunto perché ritiene che una volta finito l'amore, finisce anche la lingua. E nell'altra storia, perché appunto ci sono due storie d'amore, poi c'è la storia di Annibale che incontra Alma, e a un certo punto Annibale, quando ormai ritorna in Italia, le scrive, e si auspica di trovare un giorno una lingua dell'intimità con lei, vorrebbe trovare una lingua che possa unirli, no? E ecco, sì, credo che in questo testo il tema dell'amore sia molto legato al tema della lingua, insomma. Stavo pensando, mentre parlavi, che anche con i bambini spesso funziona così, no? Che ci sono delle parole che restano ancorate al mondo della famiglia, dell'apporto, per esempio, tra madre e figlio, no? e poi restano lì, non vengono più riutilizzate e magari descrivono delle cose che hanno vita solo in quel momento, che non rivengono poi fuori dopo, no? È molto interessante, perché quindi non è solo un discorso che riguarda una lingua specifica, ma tutte le lingue. Sì, sì, certo. Ma pensa che ci sono anziani che fra di loro parlano il dialetto e che magari con altri non lo fanno, lo fanno solo fra di loro. Insomma, credo che ci sia un'intimità linguistica in ogni persona. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda le figure femminili di questo libro. Ho notato che le figure femminili, appunto Casilda in particolare, Alma, ma anche altre figure che fanno delle apparizioni più sporadiche, sono sempre portatrici di una grande saggezza rispetto anche allo stato un po' più confusionale che mi sembra abbiano gli uomini. Vorrei chiederti se è una cosa, cioè se è un tipo di qualità, un tipo di modo di essere che attribuisci a queste figure della storia oppure in generale proprio alla donna, alla figura femminile nei tuoi romanzi. Ma guarda, il confronto sempre con i lettori è affascinante perché ti fanno vedere cose che tu magari non avvertivi. me l'avevano fatto anche notare il fatto che le donne che compaiono in questo libro erano anche portatrici di sentimenti, ma anche di saggezza, effettivamente. Non lo so, è stato un po' inconsapevole, non mi sono prefisso di attribuirle, chissà quale sapere, però sono venuti così, mi pare che funzionassero. Però sì, mi fa piacere. È come se in qualche modo tirassero le fila, non so, questo ha avuto la sensazione leggendolo, che sapessero forse prima dei protagonisti maschili dove sarebbe andata la vicenda. Magari è una sensazione. No, 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 ma è giustissimo. Bartolo per esempio si comporta quasi come un bambino, che vive nel suo mondo magico, invece lei è molto più con i piedi per terra, insomma, è molto più saggio, effettivamente. Un'ultima cosa sulla componente magica. Le lingue, in fondo, hanno anche qualcosa di magico, in particolare queste che non si parlano più. Casilda, per esempio, canta, perché dice che la sua lingua è più cantata che parlata. Se dobbiamo pensare a, non lo so, a degli incantesimi, gli incantesimi spesso sono le lingue che non conosciamo, oppure le lingue antiche, il latino, mi viene in mente Harry Potter, non so, comunque, questa componente magica che è in realtà anche molto legata alla geografia, al, sappiamo, insomma, al realismo magico, al Sud America, com'è venuta fuori? Perché la lingua è così magica? Questo piano qua fa più che altro parte, diciamo, della finzione, del testo, no? Anche se loro, devo dire, che attribuivano, attribuivano una sua magia alle parole, cioè, come dire, come se le cose, come se le parole non fossero semplicemente voci, ma anche oggetti, oggetti quasi tangibili, e quindi non distinguevano, non separavano, non facevano una scissione tra quello che sono gli oggetti e le parole, per loro erano la stessa cosa, tanto è vero che da lì deriva la loro superstizione e la loro paura, anche perché erano, avevano molta paura, appunto, di nominare le cose, avevano paura della morte, ovviamente, e quindi c'è una, un rapporto, cioè, avevano un rapporto diverso da quello che noi oggi abbiamo con il linguaggio, ecco, e quindi percependo un po' questa, questa, questa diversità, ecco che poi ho pensato che poteva diventare anche una lingua magica, in qualche modo. Una lingua che ha un potere, che ha un potere, sì, esatto, che non è solo uno strumento. Grazie mille, Adriano Bravi, grazie a voi, e l'Idioma di Casilda Moreira, ex orma editore, grazie per essere stata con il direttore metropolitano. Grazie a tutti.